Eccoci ritornati di nuovo insieme, dunque oggi 11 febbraio ricordiamo la giornata mondiale del malato e lo vogliamo fare a partire da un'esperienza che partirà da questo studio, da queste telecamere su Padre Pio TV e voglio salutare per questo motivo subito Maria Lucia Ippolito che è la curatrice, ideatrice anche del nuovo programma La sofferenza, segno di speranza. Buongiorno e bentrovata. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori, grazie a voi per questa opportunità bellissima. 15 febbraio la data da cerchiare nel calendario a partire dalle 10 e 30, Maria Lucia quindi come vi dicevo sarà in onda con il nuovo programma La sofferenza, segno di speranza. Lascio a te allora spiegare ai nostri amici cosa vuol dire il programma e il titolo del programma. Diciamo che l'idea di questo titolo nasce dalla mia esperienza, da una sofferenza vissuta tanti anni fa molto grande che poi è diventata per tantissimi un segno di speranza e che noi abbiamo attraversato circondati dall'amore di tanti per cui io sono veramente convinta che per noi cristiani la sofferenza debba essere segno di speranza una sofferenza condivisa attraverso l'ascolto, l'accoglienza, la compassione. E sì, in effetti saranno le storie, ecco potremmo dire il filo conduttore, le storie di sofferenza che diventano segno di speranza il filo conduttore di questo programma che si avvale anche di un supporto logistico importante se vogliamo perché la base di queste esperienze è la casa sollievo della sofferenza, l'opera di Padre Pio. Il grande miracolo di Padre Pio, il miracolo quotidiano che continua a ripetersi da anni e anni e anni è la casa sollievo della sofferenza, che è questo tempio di scienza ma è anche casa di preghiera. Sono i due pilastri su cui si è fondata la spiritualità di Padre Pio e che tutti coloro che lavorano in casa sollievo cercano di portare avanti nella loro vita, nella loro esperienza quotidiana. Sì, in effetti quello che vedremo Maria Lucia è questo binomio, potremmo definirlo così, inscindibile tra paziente e ammalato, è quasi un nodo che è difficile da sciogliere perché come ascolteremo nelle storie preparando anche le puntate, è questo anche il grande dato che emerge, il fatto che il corpo del paziente e il corpo del medico che cura quella carne ferita appunto diventano quasi un tutt'uno. C'è una fusione, una fusione che diventa empatia, che diventa condivisione e che come ci dice Papa Francesco deve essere avvicinarsi, deve essere curare, deve essere sollevare. Sono questi tre verbi fondamentali e importanti. Ognuno di noi, non solo in casa sollievo ma nella vita quotidiana, può incontrare l'altro attraverso attraverso l'accoglienza, attraverso la condivisione. Sì, in effetti anche prendendo spunto dal messaggio che Papa Francesco ha voluto emanare per questa trentunesima giornata mondiale del malato, ecco si evince questo tema della compassione. C'è una figura biblica molto bella, molto interessante, che è quella del buon samaritano. Padre Franco Moscone, che è il presidente dell'opera di Padre Pio, più volte ha definito, ecco la casa sollievo, quella locanda del buon samaritano che deve curare le ferite di chi magari è lasciato solo per strada. Il Papa scrive tutti siamo fragili e vulnerabili, tutti abbiamo bisogno di quell'attenzione compassionevole che sa fermarsi, avvicinarsi, curare e sollevare. È un dato importante che emerge anche dalle storie che poi ascolteremo a partire da lunedì, è proprio questo, il fatto di fermarsi. Il paziente non viene trattato come un numero, ecco magari lo ascoltiamo tante volte dalle cronache, purtroppo brutte anche tante volte, ma viene trattato come una persona. Ma questa è la grande caratteristica di casa sollievo della sofferenza, che porta con sé il messaggio di Padre Pio. Padre Pio diceva portate l'amore al letto del malato, e sosteneva che noi siamo un tutt'uno, corpo, anima, spirito. Quindi è nell'insieme che la persona può essere sorretta, curata e perché no guarita. Ma quando non c'è la guarigione del corpo, sicuramente quando c'è l'amore c'è la guarigione del cuore, l'accettazione del proprio percorso di sofferenza, una sofferenza che così diventa parte della redenzione, come è stata per Gesù. Gesù si è fatto uomo e ha preso su di sé le sofferenze di ognuno di noi per farci capire che la sofferenza è parte della nostra vita, dell'umanità, ma se è vissuta nella condivisione e nell'amore, ma nell'amore diventa più leggera, accettabile e si può anche guarire. Se ti dico Cireneo... Se mi dici Cireneo, è la mia vita, da 22 anni, perché 22 anni fa, dopo quella grande sofferenza, io ho avuto un grande dono e ho voluto dire grazie. Padre Pio amava ripetere, sono il Cireneo dell'umanità, ho preso su di me le sofferenze del mondo. E io ho capito in quei giorni in cui vivevo la mia sofferenza circondata dall'affetto di tanti, che potevo e dovevo fare personalmente e dovevamo fare anche come famiglia, qualcosa per gli altri. Prendere la croce non vuol dire farsi del male, non vuol dire prendere questi pesi enormi, vuol dire concedere un sorriso, ascoltare la persona che ti sta raccontando la tua esperienza e accogliere. E questa accoglienza è diventata un'accoglienza reale, strutturale, perché è nata una casa, che noi abbiamo chiamato Francesco Pio Forgione, dove tanti ammalati o le famiglie di questi ammalati vengono a stare e trovano non solo un luogo, ma soprattutto un cuore. Vogliamo ricordarlo, Maria Lucia, anche a beneficio di coloro i quali non sapessero la tua storia, che tu sei la mamma di Matteo Pio Colella, il bambino che è stato miracolato grazie all'intercessione di Padre Pio e grazie a questa intercessione Padre Pio il 16 giugno del 2002 ha ottenuto, tra virgolette, magari un po' brutto come termine, ma grazie a questo miracolo Padre Pio è diventato santo. Ha ottenuto gli onori degli altari. Esatto, ha ottenuto gli onori degli altari. E di lì è nata l'esperienza del Cireneo, che è questa associazione appunto, che fa della sofferenza, potremmo dire, anche la sua bandiera. Sì, è una bandiera fatta, ripeto, di accoglienza e soprattutto di sorrisi. Noi non facciamo grandi cose, ma permettiamo alle persone che arrivano a curarsi a San Giovanni Rotondo, poche alla volta, perché la casa non è grandissima, di trovare un luogo, un posto, dove sentirsi a casa e in famiglia. Come ti sei approcciata? Ecco, passiamo un po' magari ai, chiamiamoli dettagli tecnici, ma poi dettagli tecnici non sono, perché quando si parla di prodotti editoriali uno ci mette anche l'anima. Come ti sei approcciata alla preparazione di questo programma, che appunto partirà mercoledì? Ho semplicemente pensato di voler fare arrivare un messaggio a tutti i telespettatori, a tutti gli amici di Padre Pio TV, un messaggio di condivisione e di amore. Tecnicamente ho semplicemente ascoltato, ascoltato storie e ho pensato di riproporle, perché tanti si possano riconoscere in quella storia, in quel racconto, in quella sofferenza, in quella richiesta d'amore e perché no, magari in qualche guarigione. E immaginiamo che sono tante, diciamo, le storie nel tuo database, diciamo così, ecco, che in questi 20 anni hai incrociato, in qualche maniera anche, hanno fatto parte della tua vita, perché poi da queste storie so che sono nate anche delle amicizie profonde, amicizie di vita, insomma, che fanno parte, ecco, della tua vita di tutti i giorni. Assolutamente sì, ho incontrato tante persone che hanno fatto un pezzo di strada con noi, con me, e che mi hanno dato amicizia, amore e una ricchezza infinita, perché è attraverso la relazione, è attraverso la condivisione che si cresce e si diventa veramente ricchi, ricchi di emozioni e ricchi di affetto. Anche perché condividere tante volte poi, in qualche maniera, vuole anche esorcizzare, se vogliamo, il fantasma della malattia, perché è anche il filo conduttore di queste storie che stiamo preparando insieme e anche questo voler uscire e mettere da parte una sorta di sofferenza che si fa male, però poi diventa anche qualcosa ai fini redentivi e ne abbiamo ascoltato tante di queste storie. Io dico che attraverso la condivisione e la fede la sofferenza fa il suo percorso che è quello di redenzione e diventa sicuramente più leggera, ce lo insegna il Signore, prendete con me, il gioco diventa leggero, ce lo dice Gesù, non lo diciamo noi ed effettivamente questo gioco diventa leggero quando noi prendiamo per mano le persone che incontriamo. Io finché avrò forza continuerò a portare avanti questo mio progetto di vita che è quello proprio della condivisione, lo continuerò a dire sempre, è quello della compassione che non vuol dire assolutamente soffrire in maniera fisica, no, fine a se stessa, capire che la compassione è alleggerire la sofferenza dell'altro attraverso la presenza, la propria presenza. Allora, vogliamo ricordare la sofferenza, segno di speranza, a partire da mercoledì 15 febbraio alle ore 10.30, ogni mercoledì e il venerdì in replica alle 16.30. Ci sarà Maria Lucia da questa parte dello studio, quindi sarà lei a condurre e curare questo spazio in cui davvero si vuole condividere, come abbiamo avuto modo di dire in questi minuti, anche la sofferenza stessa. Allora, Maria Lucia, io ti ringrazio, ci rivediamo mercoledì alle 10.30 e in bocca al lupo. Grazie e grazie a voi, grazie a tutti.